Quanto vale la tua donazione per Cadiz? Vogliamo mostrartelo, perché le immagini valgono più dei numeri. Nel corso del 2022 abbiamo assistito donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra. Abbiamo alleviato le sofferenze della popolazione in Pakistan colpita da un terribile alluvione. Abbiamo concluso con successo due progetti post-Covid ad Haiti e in Uganda. Abbiamo continuato con il supporto in Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Thailandia e Filippine. E il 2023 è iniziato con la seconda fase di resilienza in Polonia per le persone in fuga dalla guerra. Stiamo completando i progetti in corso. E stiamo lavorando per avviare nuovi progetti in Italia e all'estero. Come è possibile tutto questo? Grazie al supporto di tutti i donatori come te. Supporta i beneficiari dei progetti Cadiz attraverso il fondo d'emergenza. Insieme continuiamo a fare la differenza, in ogni momento e in ogni luogo, attraverso programmi strutturati, personale locale qualificato e grazie alle decine di volontari che ci aiutano.